Il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi è situato a 200 metri dal centro storico di Lecce, in posizione ideale per raggiungere le più belle località del Salento Il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi ha strutturato una serie di servizi per consentire all'ospite di godere di un soggiorno in totale relax Il bar mediterraneo è l'angolo in cui rilassarsi davanti a un buon caffè, una bevanda o un cocktail La piscina, dotata di aria idromassaggio e spazio per bambini, è arredata con confortevoli lettini e gode di aria d'ombra per le ore più calde della giornata L'hotel dispone di camere classic, superior ed executive, realizzate con i più moderni criteri di abitabilità e caratterizzate da uno stile contemporaneo Il Ristorante Michelangelo offre piatti nazionali e cucina salentina Il Salone delle Feste è dedicato ai grandi eventi e ai banchetti, con una capienza fino a 300 persone e un grande cammino che rende l'ambiente caldo e accogliente Le sale meeting sono a disposizione per incontri manageriali, riunioni aziendali o conferenze e possono ospitare da 10 fino a 800 persone, con un totale di 14 sale e 2000 m2 di spazi espositivi A breve, l'apertura di un nuovissimo centro spa con 500 m2 tra fitness e benessere